Per me questo è stato un anno intenso, un anno importante, un anno positivo per tutta una serie di motivi, prima di tutto per una crescita anche mia personale, però guardo sempre a quello che c'è da fare e non mi guardo tanto dietro, per cui tutta l'attenzione, tutta l'energia, tutta la forza che è necessaria è rivolta alla partita di domani, questa è una settimana particolarmente pesante per un motivo o per l'altro e quindi è questa la focalizzazione che mi interessa, sia per noi che per loro, vuol dire tre partite nell'arco di pochi giorni e quindi bisogna avere anche una certa bravura nel sempre gestire le energie, non tanto fisiche ma soprattutto nervose. Abbiamo fatto una partita due giorni fa molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale, ma la crescita di una squadra deve essere anche questa, non saper gestire questi momenti intensi, quindi quella di domani sera è sicuramente un bel test, un bel provino da questo punto di vista, dobbiamo essere all'altezza della situazione. Nel momento in cui noi saremo capaci a pensare molto di più a noi stessi, a quello che dobbiamo fare, allora lì possiamo affrontare qualsiasi squadra. Quando invece la nostra attenzione ricade molto di più sull'avversario e su chi hai di fronte, il momento in cui il tuo modo di ragionare è proiettato in maniera tale che sei, come dire, preposto un po' a subire quello che è la forza, la vehemenza, la capacità dell'avversario e poi quello che tu farai diventa un po' una conseguenza, non deve essere così. La conseguenza deve essere l'avversario, ma innanzitutto devi esprimere tu i tuoi valori. Mi sento sempre più integrato in un tessuto cittadino e quindi questo diventa parte ancora più importante della mia vita quotidiana. Mi sento molto a mio agio, questo sia anche dal punto di vista professionale un vantaggio perché poi ti dà stimoli, quando uno non è, come dire, così partecipe in quella che è anche la realtà cittadina e vengono anche dal punto di vista del lavoro, secondo me, un po' meno certi stimoli, invece così aiuta. È un campionato che riserverà sempre delle sorprese ogni settimana, a mio parere, quindi bisogna sempre tenere la guardia ben alzata e stare ben coperti perché come abbassi un po' rischi il colpo decisivo, come succede anche nel pugilato, si può cadere al tappeto ma ci si può anche rialzare, è importante che non arrivino fino a 10.